Ciao, oggi vi voglio ringraziare perché siete veramente in tanti che si sono iscritti al mio canale YouTube e in molti commentano, continuano a commentare nei video sotto facendo domande oppure dando anche delle risposte agli altri. Ho pensato per questo, di dare un bonus da 200 euro al commento selezionato per l'acquisto di una Foxbox. Vi sono veramente grato per seguire un canale così di nicchia specializzato nel settore delle pompe di calore e trovare tutte queste persone appassionate che vogliono saperne di più per me è veramente un grande orgoglio. Ecco, io non pretendo di avere la verità assoluta, riporto semplicemente la mia esperienza che dal 2012 mi segue nel settore delle pompe di calore e per questo puoi trovare diversi link utili nella descrizione di questo video. È vero però che nel frattempo il web si è riempito di esperti delle energie rinnovabili e delle pompe di calore. Nel 2012 probabilmente nessuno dei fantomatici esperti delle pompe di calore e delle energie rinnovabili che trovi adesso su YouTube sapeva dell'esistenza delle pompe di calore. E lo puoi constatare da solo, basta che chiedi loro di mostrarti qualche impianto realizzato, qualche impianto progettato nel 2012, 2013, 2014 con le pompe di calore. Ecco, difficilmente ti mostreranno qualcosa di concreto. Qualcuno mi chiede ogni tanto ma perché ti sei focalizzato nelle pompe di calore professionali? Termine che sta a indicare quelle pompe di calore che hanno alte rese, quindi bassi consumi, che lavorano a 65 e 67 gradi, che sono realizzate da costruttori specializzati nelle pompe di calore che non producono condizionatori, caldaie e quant'altro. Beh, il motivo è semplice, un po' come barbieri, come cannavacciolo, cracco, come borghese. Tutti che mettono alla luce la cucina, gli aspetti diversi della cucina, però ciascuno di loro ha creato il proprio ristorante. Perché? Perché a casa propria vogliamo mangiare bene. Ecco, questo è il motivo per cui mi sono innamorato delle pompe di calore professionali. E mai e poi mai abbandonerei la mia idea per qualcos'altro. Torniamo comunque a noi. Allora, oggi ho deciso di premiare il miglior commento e per far questo utilizzerò un software che va a selezionare i commenti di un specifico video. Per far questo però devo tornare in ufficio. Allora, dai, vieni con me in ufficio che andiamo a decretare il vincitore. Eccoci allora in ufficio. Ho deciso di selezionare questo video perché lo trovo particolarmente utile. Ho condiviso con voi la tecnica con la quale verificare se l'impianto a radiatori può essere abbinato alla pompa di calore. È una tecnica semplice, però sembra che sia il quanto difficile perché nessuno la applica. In realtà è veramente banale e qualsiasi tecnico è in grado di attuarla. Ecco, allora, prima di decretare il vincitore ti ricordo di, se non l'hai ancora fatto, di iscriverti al mio canale YouTube e di cliccare sulla campana a fianco così da ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video e soprattutto rimanere aggiornato su questo importante tema del riscaldamento elettrico, della casa full electric, della vivere senza gas grazie alla pompa di calore. Bene, ecco, allora siamo nella piattaforma. Ho caricato il video e adesso sarà selezionato il vincitore. Ecco, rullo di tamburi e il vincitore è Alberto Benelli. Bene, Alberto, allora hai diritto a un bonus da 200 euro da utilizzare per l'acquisto della tua Foxbox. Controlla con astuzia la tua pompa di calore, ovvero la centralina per il monitoraggio da remoto dei consumi e delle temperature e del funzionamento della pompa di calore. Per scuotere il tuo coupon bonus vai sulla descrizione del video, trovi il link contatti, scrivami in privato e riceverai il bonus. Non perderti i miei video e ricordati di commentare sotto perché anche in futuro ci saranno nuove premiazioni. Grazie come sempre e ci vediamo al prossimo video!